ehi la ciurma sono estremamente desolato desolatissimo però ho appena finito di registrare il video cosa vorrò dire secondo voi semplice cioè che ho registrato per una trentina di minuti compresi pezzi che avrei dovuto tagliare in fase di montaggio ma avevo dimenticato spento il microfono quindi non ha registrato niente di commentario e quindi è venuto uno schifo di video che ho dovuto buttare e quindi rieccomi qui come se non fosse quasi mezzanotte per registrare l'episodio settimanale di mind test per fortuna ho dell'amico caffè che potrà risvegliarmi in caso fosse necessario allora prima di tutto prima di tutto prima di tutto ciò che devo farvi vedere è quello che voi tutti state aspettando il momento che bramavate da un'intera vita ed ecco a voi ciò che è la nostra nuova farm di alberi ok di alberi non se ne vedono molti perché effettivamente vengono decapitati costantemente però è lei è una bellissima farm di alberi e in inizia a dare un pochettino i suoi frutti qua non ce ne sono ancora tantissimi ma più che altro perché o l'ho completata da poco diciamo non sono stato fk o non ho giocato qui sul sul mondo dopo averla completata e quindi non ha avuto ancora possibilità di farmare parecchia legna però credo che andrà discretamente veloce c'è voluto un bel po non ho messo le staccionate protettive per evitare che di cadere sotto dove c'è il 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 filo esposto ma gg gg c'è voluto un sacco di tempo quindi mi spiace ma per ora la teniamo così poi vedrò di mettere anche le staccionate protettive balle vai c'è bisogna forse di un po di ok 1 2 3 4 un po di energie dovrebbero bastare 4 quello che però stavo facendo era al polo nord vi spiego perché visto che si sta avvicinando al periodo natalizio ho detto cosa fare di meglio che non tornare a costruire nella nostra bella zona invernale che avevamo abbandonato praticamente un anno fa e così è stato sono salito su in cima e ho visto quello che è quella cima scusate se ho detto troppe volte cima ma è una cosa molto bella dire cima non ci avete mai pensato cima 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 e pensavo quello che manca in questa zona del nostro mondo è qualcosa da mangiare e dico può uno stare nella sua casetta tutto l'inverno senza mangiare senza prendersi un piatto di polenta calda con spezzatino piuttosto che una bella tazza fumante di cioccolata calda no infatti non può restare senza e quindi ciò che ho pensato è di fare un bel rifugio su in cima al monte però non mi bastava no di fare questo gran casino di costruire un edificio in cima a un monte dall'altra parte del mondo di dove abito regolarmente volevo anche farci un percorso interno alla montagna per arrivarci e così ecco qua quello che è il nostro camminamento per arrivare sopra in cima al monte ci ho messo davvero parecchio tempo praticamente i 30 minuti dello scorso episodio sono passati principalmente nella costruzione di questo qui vi è una scala chiocciola che è un pochettino bruttina perché è da sistemare vorrei metterci le scale in modo che mi richiedano di saltellare fino a su in cima perché c'è un lungo tragitto verticale di circa una quarantina no di più forse una sessantina di blocchi da fare in verticale e avevo pensato quindi di costruire questa scala chiocciola che è molto carina ma anche molto scomoda da fare saltellando e quindi credo che metterò degli scalini ci vorrà un bel po' per fare degli scalini per tutta questa scala ma avremo parecchio tempo da dedicare a questo rifugio in vetta ecco finita la parte con la scala chiocciola si arriva nella parte finale dove siamo poco sotto la superficie e oddio si creano le felci così in mezzo ai piedi e sbucchiamo in quella che è la cima che vi mostravo prima la casetta in pratica risulterebbe là sotto adesso non so se si vede sì ecco qua è piccolina 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 in pratica abbiamo fatto un pezzo di percorso in qua un pezzo di percorso in là siamo saliti e poi siamo venuti in qua nell'ultimo pezzo del tunnel e qui in questa zona qua è lo spiazzo dove vorrei costruire il rifugio rifugio che in pratica è pensavo di fare un pochettino grande con un pochettino di spazio per mangiare ma con un po' di spazio per la cucina magari utilizzare anche degli oggetti della home decor tipo eh magari non i lavandini e queste cose qua però che faccia un pochettino di ambiente ecco anche come dei come si chiamano quegli affari facciamo prima cercare quegli affari della cucina che però non si chiamano affari eh tipo questi mobiletti ecco quei mobiletti della cucina che ci sono anche su in alto che si possono mettere ehm cabinet quale chiama eh tipo questi kitchen cabinet da mettere su o giù insomma che facciano un pochettino cucina e magari mettere poi anche una piccola sala con un piccolo posto per mangiare con della gente se vengono degli sciatori qua a trovarci eh insomma ecco che possa essere un pochettino accogliente e eh per riscaldarci in questo freddo inverno che passeremo qui al polo nord che poi tra l'altro riflettevo nello scorso episodio cioè nello scorso episodio nell'episodio quello che non è mai apparso che ci sta davvero che si chiami polo nord in questa zona perché alla fine siamo vicino allo zero di una coordinata e quindi non ho più terzo e devo tornare fino a casa per prenderla e quindi è una bella 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 idea quella di chiamarlo polo nord perché alla fine appunto della coordinata x siamo praticamente allo zero quindi più polo nord di così è solo zero zero che deve essere comunque qui vicino allora qui avremo bisogno di legno di pino inizio a sbadigliare quindi beviamo un po' di mmm è ancora bollente un po' di caffè cosa c'è laggiù in fondo? quello là è uno spuntone andiamo un attimo a vedere voglio capire un attimo come è concepita questa zona qua perché forse c'eravamo stati un anno fa ma era appunto un anno fa e quindi non mi ricordo bene com'è sì qua è la parte proprio sospesa nel vuoto completamente se no ricordo male e forse zero zero è proprio quell'isoletta là dove siamo spawnati noi sì dovremmo essere nella zona sospesa nel vuoto sì quindi pensavo visto che avremo abbastanza legno di pino potremmo fare il rifugio in legno di pino poi qua ci sono molti pini che abbondano nella zona quindi direi che ci può stare proprio come come tipo di costruzione qualcosa in legno di pino magari non completamente regolare un pochettino storta per mantenere un pochettino più l'idea sto continuando a dire un pochettino per mantenere l'idea dell'impervietà della zona cioè insomma se vincivano a montagna non è che puoi fare tutto così scicchettoso e preciso e qua e l'altro altrimenti viene poi cestona poi quindi qualcosa di più rustico scusate se sbadire ma è davvero tardissimo non contavo di fare così tardi e registrare il mind test tra l'altro ringrazio tutti quelli che sono venuti mercoledì sera al mini raduno diciamo così di mind test in multiplayer perché è stato davvero un bel evento io sono stato molto contento spero anche voi e abbiamo fatto un po' una chiacchierata con alcuni di voi come Tailot e commentatore video ci sono stati un po' di problemi su discord con altre persone e mi spiace davvero tanto per quella situazione speriamo che si possa ripetere in futuro senza problemi di questo genere ecco che poi in realtà potevo usare semplicemente anche questo comando qua infatti perché non ci ho pensato prima e perché sono idiota allora andiamo a nanna intanto che siamo qua a casa e poi e poi prendiamo quello che ci serviva ci serviva della dirt è vero? della dirt allora di dirt un po' ne abbiamo allora due stack potrebbero bastare sì non dovrebbe servirci così tanta dirt allora prendiamo un pochettino di mese già che siamo qua e vediamo di prendere anche un po' di legno di pino così da iniziare a a buttare su un design per quello che sarà quell'edificio questo qua di Aspen però non mi convince molto è troppo chiaro magari lo utilizzeremo per quello che sarà la parte estiva ma se arriveremo mai a quest'estate vivi con la spiaggia in realtà la spiaggia volevo farla dall'altro lato ovvero mi ero messo anche un teletrasporto in quella zona scusate vado un attimo a controllare perché vorrei un attimo vedere se mi inganno no 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 mi inganno era effettivamente di qua che volevamo fare la spiaggia sì che era bellino c'era spazio tanta roba arecchi premi ecco tion sì ma torniamo al nostro polo nord e adesso dobbiamo rifare tutta la strada in salita porca la miseria adesso qua corriamo a sta zona perché altrimenti ci si mette una vita una vita a salire una vita a salire anche con il pulsante e premuto corri corri ma tanto sbatti perché questo no sto cadendo dove sono sceso giù di nuovo mi ha dato l'impressione di essere sceso giù di nuovo no sali 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 ok eccoci ma adesso viene il mal di testa a far così devo mettere al più presto degli scalini in modo da addolcire un po' la situazione allora dicevamo che mettiamo un po' di dirt qua allora 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 così potrebbe già iniziare ad avere scusate davvero sono desolato da tutto questo sbadigliare ma purtroppo il fisico esiste e abbiamo degli stimoli un po' potremmo fare dietro il bancone che rifasta fare dai mi piace un sacco forse me lo sto immaginando un po' troppo stile western ma diciamo che non mi dispiacerebbe il fatto di avere un un bancone in questa sorta di rifugio ma facciamo qualcosa che sborda così da un po' irregolare e poi qua che continua e poi riprende qua si da un pochettino grezzo in fondo è un teniamo l'albero no l'albero si da no si se ho detto questo poi ci passo si ci passo allora facciamo che accerchiare l'albero proprio così tipo e così dai si mi piace mi inizia a piacere allora non c'è poi così tanto spazio effettivamente forse potremmo farlo su più piani in altezza non lo so allora se qua dobbiamo mettere il bancone allora mettiamo abbiamo qualcosa che si può usare come bancone innanzitutto allora vorrei mettere dei tavolini tipo wood table small round però quello credo che tu debba metterlo su queste zampette qua se non ricordo male non serve stata una cattiva idea quella di mettere dei tavolini rotondi in mezzo alla sala tipo tipo come un saloon alla fine anche se non è un saloon ricordiamolo allora proviamo a fare allora così e no e così come funziona forse l'avevo già provato ma non mi ricordo allora metto questo e poi metto così si è un tavolino molto piccolo non abbiamo dei tavoli più grossi vero? wood table piece large wood table small small round posso fare grandi ma wall shelf questa è una mensola ma è solo quadrati grandi questo è un tatami ma non abbiamo bisogno di un tatami per ora glass skylight possiamo mettere un frigo anche se non puntavo tanto al frigo puntavo qualcosa di un po' diverso half kitchen no 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 mi sa che andrò di legno standard così però il discorso è che se il bancone viene qua poi è super corto ma vorrei fare tipo ecco tipo il bancone qua facciamo il bancone tipo così in mezzo ciò che qua c'è la zona cucina e qua c'è da quest'altra parte invece c'è la zona sala togliamo questa neve intanto che rompe un po' un po' l'anima e poi mettiamo un po' la dirt qua sostituire per ora poi dopo penseremo anche alla pavimentazione tra l'altro come sempre sono ben accetti tutti i tipi di consigli sul layout su come costruire su che tipo di oggetti utilizzare metteremo un cancelletto tipo per passare un cancelletto tipo laterale qua allora adesso chi si ricorda come si faceva il cancello era così o era al contrario era al contrario così e cosa ok qua c'è il bancone poi il barista passa dall'altro lato se è necessario qua c'è una porta boh ci pensiamo alla porta e qui appunto c'è l'altra zona dove ci sono i mobili il frigo il tunnel e di là mettiamo i tavoli tipo così no che case ma si mette ovunque si wow così non è allora proviamo a fare delle altre gambe di tavolo dove erano i fondi si ecco fammene 10 poi 10 non ce la fa ecco fammene 3 intanto 3 dovrebbero bastare allora così 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 ci resta ancora una una qua all'angolo dai dovremmo poi mettere forse anche delle sedi l'unica cosa è che diventa poi molto stretto adesso dobbiamo passare con delle sedie possiamo mettere questo all'angolo e allontanare un po' questo tipo metterlo eh dove era l'altro prima così qua mettiamo una sedia una sedia una sedia una sedia una sedia ma perché ci sono quei quelle sedie alte da quegli sgabelli da bancone qua non credo eh uh ecco cosa possiamo usare al bancone il beer tap questo è proprio ideale per il bancone queste invece sono delle bottiglie che possiamo mettere effettivamente sulla mensola ma deve venire molto carino sta a fare qua kitchen oh oddio abbiamo bisogno di un sacco di roba da craftare ma avremo tempo avremo tempo allora per ora mi sa che sta iniziando a prendere la sua forma abbiamo parecchio tempo ci penseremo con calma io nel frattempo vi saluto noi ci vediamo la prossima settimana sempre il sabato sempre qui su main testita e vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi sempre in caso non lo stai già fatto e a lasciare un commento con i vostri consigli su cosa fare e cosa non fare di questo bellissimo posticino invernale noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti buona giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti